Cosa stai facendo? The hood! Ho sempre pensato che so quello che dico Ho detto cesso, non cesso A 100.000 facciamo una modifica a una delle nostre auto Che voi non avete mai visto in vita vostra In golia Sì, guardate Gini in questa posizione come è comoda Scusi Chrysler, abbiamo un problema Abbiamo un pedale in più Scrivetemi nei commenti Scrivetemi nei... Non sono una signora Finalmente Vi presento la Viper TBC 770 cavalli Compressore volumetrico Trazione posteriore Si muore da eroi Partendo dal fatto che questa è la prima versione Quindi una versione abbastanza prototipo Essendo super bilanciato Basta soltanto con un dito Se viene riverniciata la macchina Il cofano non sta più su da solo Si chiude da solo Quindi questo è un buon segno Il fatto che ti manca solo solo Perché...